La funivia del Gran Sasso dal primo maggio sarà chiusa o almeno così pare. Lo stop è stato confermato dalla regione Abruzzo. Il comune aveva chiesto come si ricorderà all'ansfisa di annullare il provvedimento per la sostituzione delle funi altrimenti lo avrebbe impugnato ma per la CGL c'è una nota del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione che informa il comune appunto che in assenza di questo adempimento in sostanza si va a bloccare la funivia da maggio 2023. Il sindacato chiede a questo punto un intervento deciso perché se la funivia dovesse rimanere chiusa questo aggraverebbe la situazione anche a livello occupazionale ma non solo. Oggi c'è un atto formale della regione Abruzzo, del Dipartimento Trasporti della Giunta Regionale che insomma impone dal primo di maggio la chiusura pubblica esercizio dell'impianto non essendo riscontrabili atti nuovi e determinanti. Siamo preoccupati per i dipendenti ovviamente, per le loro famiglie ma anche per tutto il comprensorio perché per le attività che ruotano intorno alle attività turistiche legate al Gran Sasso. Ovviamente è un atto grave, è una condizione grave, sappiamo che i tempi per mettere a norma quell'impianto quindi sostituzione delle funi se quello deve essere non sono tempi brevi e non vediamo che ci sia qualche movimento che anticipa i tempi. Siccome saranno tempi lunghissimi soltanto per trovarli e poi per montarli. Ecco voi chiedete alla politica, al comune in particolare un impegno, la convocazione dei capigruppo ma anche di un consiglio straordinario per parlarne tutti quanti insieme. Noi crediamo che l'argomento deve essere all'ordine del giorno immediatamente perché insomma, come dire, intanto bisogna reperire le risorse per fare un'operazione di quel tipo e poi sono i tempi tecnici che saranno assolutamente non brevi quindi siamo preoccupati perché dobbiamo attraversare un periodo difficile che riesca di far saltare oltre l'estate anche il prossimo anno.